Sette liste per 220 candidati, riunita l'intera coalizione a sostegno di Biancani Sindaco. Il Duomo chiude per un mese, via al cantiere per dare nuova luce ai mosaici. Piazzale Lazzarini cambia volto con la nuova statua dedicata a Luciano Pavarotti. A Marche Multiservizi la sicurezza sul lavoro passa attraverso il teatro. VL, ultima giornata da brivido, la Viz vai play out in posizione di vantaggio. Una buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV. Riparte una nuova settimana all'insegna dell'informazione di Rossini News. Il telegiornale del Canale 80 che in questa edizione di lunedì 29 aprile apriamo con la politica in vista delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Con Pesaro, partiamo con Pesaro e con le sette liste che saranno a sostegno della candidatura a sindaco di Andrea Biancani per il centro-sinistra. Sette schieramenti. Riunitesi questa mattina in un luogo di prossima riqualificazione cittadina. Biancani sindaco, Partito Democratico di Pesaro, il Faro, Forza Pesaro, una città in comune, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra. Queste le liste a sostegno di Andrea Biancani come candidato sindaco per il centro-sinistra di Pesaro. Una presentazione che è avvenuta presso l'ex magazzino ferroviario sotto al Cavalcaferrovia De Sabata. Un'occasione per rappresentare tutte le liste a sostegno di Biancani e anche i punti fondamentali del programma. Sono sette liste importanti con persone di esperienza. Ci sono anche tantissime persone nuove, la prima esperienza. persone giovani, persone meno giovani. Ma devo dire che tutte molto cariche, pronte a mettere a disposizione le proprie competenze per la città. La vittoria a Pesaro è per noi fondamentale. Questi anni abbiamo fatto tanto. Abbiamo lavorato davvero tantissimo per rendere la città nazionale più competitiva, piena di lavori, di investimenti. Andrea è sicuramente la persona migliore che può mettere a terra questi investimenti grazie alla sua concretezza e al suo agire popolare. Ho scelto appunto questa zona, la zona della stazione, per presentare la mia candidatura a tutte le liste all'interno di questo bellissimo spazio. Uno spazio che era una volta un deposito per i treni, che verrà completamente riqualificato. Sarà una bike up, cioè una bici stazione, dove ci sarà un punto ristoro. Sarà possibile depositare le bici, sarà possibile lasciare la propria bici in sicurezza, sarà possibile ricaricare la propria bicicletta. Al centro, tra i temi elencati, soprattutto quello della riqualificazione tra strada, manutenzione e soprattutto attenzione al verde. Le sfide per il prossimo futuro, per i prossimi cinque anni, sono sicuramente sfide molto importanti. In primis è quello di riuscire a realizzare, a mettere a terra, a concretizzare tutte le decine di milioni di euro che questa amministrazione è riuscita a intercettare negli anni. Investimenti sia per fare nuove scuole, per riqualificare il patrimonio culturale nella nostra città, per riqualificare gli spazi pubblici. Assieme a questi è necessario comunque non sottovalutare i piccoli interventi, cioè le manutenzioni, la stimazione dei parchi pubblici, le strade, i marciapiedi. Tutte quelle piccole opere che possono sembrare meno importanti che in realtà non lo sono. Dall'altra parte ho detto una città che è riuscita ad essere in questi anni un punto di riferimento, un modello, anche per molte città a livello nazionale. Sicuramente lo è per le politiche del sociale, per le politiche legate alla famiglia, per le politiche legate al turismo e alla cultura. Ritengo che i quartieri debbano essere valorizzati, sostenuti e debbano partecipare in tutti i percorsi, i processi che l'amministrazione fa per andare a decidere quelle che sono le priorità di questa nostra città. Ritengo che sia importante puntare su una città con più verde, con più alberi, perché oggi il clima è cambiato, gli alberi ci possono aiutare, non solo per tenere la città più bella, ma anche per migliorare di molto quello che è il microclima della nostra Pesaro. Per ultimo si continuerà a proseguire nel progetto Bicipolitana, perché è il progetto Bicipolitana di collegamento, mi riferisco in particolar modo con Borgo e Santa Maria, con Villa Ceccolini, è un progetto strategico della città che vuole continuare. Ed ora parliamo anche di un altro cantiere avviato proprio oggi in centro storico a Pesaro, ovvero quello di valorizzazione dei mosaici del Duomo, che porterà a circa un mese di chiusura al pubblico per la cattedrale. Dopo aver celebrato le ultime funzioni religiose del weekend, la cattedrale di Pesaro da oggi ha chiuso le porte a fedeli e visitatori per avviare il previsto cantiere di ampliamento delle finestrature sui sotterranei mosaici del Duomo. Un tesoro nascosto, la cui visuale, oggi ristretta e opacizzata, migliorerà dopo l'intervento finanziato da Fondazione Scavolini ed eseguito da Renco, presentato tre settimane fa. Un intervento che amplierà le vetrate attualmente esistenti nella navata centrale di oltre 42 metri quadrati, con la sostituzione di vetri opacizzati e usurati dal calpestio e la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione. Un progetto che porterà a far riemergere parti attualmente non visibili del tappeto musivo sotterraneo, la pavimentazione a mosaico del VI secolo e la trincia che ha messo alla luce quella del IV e V secolo. Si potrà apprezzare anche il pannello della nave troiana e della sovrapposta scacchiera del XII-XIII secolo. Un mese di lavori circa che saranno seguiti dalla soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio che porteranno a riaprire il Duomo indicativamente fra fine maggio e inizio giugno. Un mese in cui le funzioni religiose saranno dirottate sulle chiese del centro storico di Santa Lucia e San Giuseppe. Dal patrimonio archeologico a quello musicale di Pesaro, perfettamente sintetizzato dal Teatro Rossini che da sabato sera è affiancato ad una nuova scultura, quella che Pesaro dedica alla memoria del grande tenore Luciano Pavarotti, cittadino adottivo proprio di Pesaro. Una statua di bronzo di un metro e 92 centimetri collocata in piazzale Lazzarini per creare una sorta di invito al vicino Teatro Rossini. Pesaro mangia il suo illustri cittadino adottivo Luciano Pavarotti dedicando una scultura all'immortale arte musicale del tenore legatissimo a Pesaro come ricordato dall'iscrizione sulla base di marmo dell'installazione «Sono cittadino onorario di mille città nel mondo, ma di questa mi sento vero cittadino». In centinaia fra pesaresi e visitatori hanno assistito sabato sera alla scopertura del monumento concedendosi ai successivi selfie di rito con una statua che cambia la fisionomia della seconda piazza cittadina. Un monumento applaudito anche dagli emozionati familiari di Pavarotti, dalle figlie Cristina e Giuliana alla moglie Nicoletta Mantovani. «È un giorno speciale perché è riconoscimento del grande amore che lui aveva per questa città e quindi in questo momento è come se l'onda dell'amore tornasse indietro. Ed è bellissimo perché per lui Pesaro era veramente un posto dove ritrovare la pace, la felicità. Lui amava girare per la città, stare con i pesaresi, la trovava una città fantastica. Quindi il fatto che sia qua davanti al teatro a cui lui teneva tanto in un anno speciale che è quello proprio dedicato alla cultura, è una città speciale, è veramente un riconoscimento molto bello». «Molta gratitudine davvero per questa iniziativa e anche per il premio che verrà assegnato stasera da una città che lui amava molto, che anche io amo molto perché vengo qui da quando sono nata praticamente e continuo perché è una città accogliente, bella e adesso anche molto viva culturalmente. Speriamo che continui così». «Emozionante vedere tutte le persone che sono venute qui e sono anche alcune riemerse dal tempo lontano e quindi ad ogni abbraccio è come rivivere tutta la storia che c'è stata in questa città per la nostra famiglia e per, chiaramente, stiamo parlando di Luciano». Alla cerimonia anche Gian Pietro Cavazza, vice sindaco di Modena, città natale del tenore e il regista e scenografo Pierluigi Pizzi, da 40 anni protagonista del Rossini Opera Festival e legatissimo a Pavarotti. «Sono felice di essere qui perché ritrovo un vecchio amico, Luciano Pavarotti, con cui ho lavorato in varie occasioni alla Scala a Roma e devo dire che è raro trovare, incontrare un artista così dotato». «Un rapporto viscerale, quello di Pavarotti con Pesaro, da Villa Giulia a Baia Flaminia alle esibizioni al Teatro Rossini riaperto nel 1980 dopo lunga chiusura, fino alle memorabili performance dell'86 in Piazza del Popolo e dieci anni dopo nell'attuale Vitrifrigo Arena. Un rapporto rimarcato ora dalla statua realizzata da Albano Poli e presentata da Andrea Mezzetti, assistente artistico dello scultore 88enne». «Ha fatto questa scultura veramente con il cuore e continua a chiamarmi al telefono perché era veramente felice di questa possibilità di aver realizzato un'opera per la città di cultura di Pesaro, ma soprattutto per una statua dedicata a Pavarotti. Dopo Dante Alighieri che abbiamo realizzato e la divina Maria Callas abbiamo realizzato questa statua di un grandissimo tenore, uno dei più importanti del mondo. È realizzata in bronzo, è una statua che pesa circa sui 180 kg, 1,92 m più 10 cm di marmo. In particolare è la base, perché avete visto che è una base rotonda e quindi indica un po' l'occhio di bue. Quindi ci sarà poi un'illuminazione dove la sera ci sarà Luciano Pavarotti proprio sul palco scenico e come fosse sul palco scenico ritornato nella città di Pesaro». Informiamo che da mercoledì 1 di maggio tornerà attiva la sosta pagamento nella zona mare di Pesaro. Le vie interessate saranno Viale Trieste nel tratto compreso tra Viale della Repubblica e Viale Gorizia esclusa la ZTL temporanea e le traverse comprese fra i Viali Trento e Trieste da Via Lanfranco a Via Leonardo da Vinci. Quella di ieri, 28 di aprile, è stata la giornata mondiale per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. Una giornata che Marche Multiservizi ha voluto enfatizzare questa mattina con una iniziativa molto particolare. All'indomani del 28 aprile, giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro, Marche Multiservizi ha scelto la formula della rappresentazione teatrale per mettere l'accento su sensibilizzazione alla prevenzione da infortuni e morti sul luogo di lavoro. I dipendenti dell'azienda questa mattina si sono radunati nell'auditorium di Marche Multiservizi per assistere allo spettacolo A Chiesita della compagnia Rosso Levante. Una narrazione ispirata alla cronaca quotidiana che punta a trasmettere in maniera innovativa e coinvolgente il valore critico della tematica. Un messaggio forte necessariamente è teatro, è finzione, ma tutte le storie che mettiamo in scena sono tratte purtroppo dalla cronaca. È un viaggio in Italia da nord a sud e affrontiamo storie di sicurezza o di mancanza della sicurezza non soltanto sul lavoro ma anche sulle strade, negli ambienti domestici, in tutti i tempi della vita. Stiamo investendo da decenni ormai moltissime ore in termini di formazione, noi facciamo complessivamente oltre 10.000 ore di formazione all'anno per tutto il personale, circa il 60% è dedicato alla sicurezza e alla salute sul lavoro. Quindi è un impegno importante e comunque non è né un costo né tantomeno un lusso, è un nostro dovere e comunque è un diritto per tutti quanti fare in modo che questo sia un luogo di lavoro ma un luogo sicuro, sano e in questa direzione continueremo a investire. Noi abbiamo iniziato a creare spettacoli sulla salute e sicurezza sul lavoro a partire dal 2010 quando abbiamo raccontato la storia di un nostro caro amico che è rimasto schiacciato da un cancello di 600 kg dopo una lunga giornata di lavoro. Quindi è uno spettacolo nato dalla necessità di raccontare questa storia particolare per urlare al mondo, basta, mai più, perché non è possibile che ogni giorno in Italia ci siano tre morti sul lavoro e decine e decine di incidenti, non tutti gravi per fortuna ma comunque questa cosa va avanti da troppi anni ed è ora di cambiare. Devo dire che le marche rispetto all'anno precedente gli incidenti sono diminuite di circa 2000 e anche nella provincia di Pesaro si è avuta una diminuzione di 200 casi quindi c'è sicuramente una maggiore attenzione, una maggiore sensibilità ma ciò che è fondamentale è la formazione, infatti mi complimento con Marche Multiservizi per l'organizzazione di questa giornata, perché i lavoratori devono essere consapevoli dei rischi che incontrano nello svolgimento del loro lavoro ma si può essere consapevoli solo se si è adeguatamente formati. Un impegno di Marche Multiservizi verso sensibilizzazione e formazione supportato da risultati concreti A cominciare dagli ultimi tre mesi del 2023, risultati come primo trimestre senza infortuni fra i 620 dipendenti dell'azienda. Comunque sta dando dei grossi risultati, abbiamo ridotto di circa il 60% il livello infortunistico anche quello che è la gravità degli infortuni si è ridotta in gran parte Molti tra l'altro su questi sono, quelli che sono rimasti, molti sono soprattutto sul percorso casa-lavoro tanto per intenderci. Diciamo che il nostro obiettivo è un obiettivo forse difficile da raggiungere ma che dobbiamo perseguire con determinazione e perseveranza e l'obiettivo è infortuni zero. E torniamo ad occuparci di elezioni fra i comuni della provincia di Pesero Urbino inferiore ai 15.000 abitanti che possono ricandidare il proprio sindaco ad un terzo mandato c'è anche Montelabate dove la prima cittadina Cinziaferri si ripropone per un nuovo quinquennio amministrativo. Parte la corsa di Cinziaferri verso il terzo mandato a sindaca di Montelabate. Un'avventura amministrativa iniziata nel 2014 con il Movimento 5 Stelle e che dopo dieci anni riparte sotto il segno della lista civica Cinziaferri sindaco. Inaugurata in Via Verde, Osteria Nuova, la sede di una lista elettorale composta prevalentemente da persone che non appartengono al Consiglio Comunale uscente. Una lista formata da tante persone che qualcuno ha già avuto esperienza nell'amministrazione comunale, qualcun'altra no, ma persone semplici alla portata di mano di tutti i cittadini, pronti ad accogliere le richieste e le esigenze che ancora dobbiamo andare a sopperire, volenterosi e soprattutto disinteressati. Non hanno interessi personali da poter attingere nell'amministrazione comunale ed è questa la nostra carta vincente. Ho voluto questo gruppo fortemente, chiamandone uno a uno, perché sono persone socievoli, allegre, intelligenti, capaci e soprattutto che hanno voglia di fare gruppo, perché noi è questo quello che vogliamo fare, gruppo per accogliere le richieste e le esigenze dei cittadini. Dopo dieci anni di amministrazione che abbiamo già fatto tante cose, c'è ancora tanto da fare, non lo nascondiamo, e soprattutto adesso possiamo concentrarci su altre cose, su altri obiettivi. In questi dieci anni ci siamo concentrati sulla scuola e sulla sicurezza del territorio. Adesso possiamo dedicarci a tantissime altre cose che però vedremo un pochino più avanti. Le immagini che vi mostriamo ora riguardano le bandiere di Gubbio firmate dal compianto Oscar Piatella che hanno colorato la piazza del popolo appunto nella domenica mattina di ieri. Un grande spettacolo di sbandieratori in un ponte culturale fra Marche e Umbria applaudito da centinaia di visitatori. Sul palco della Lusfera anche il sindaco di Gubbio, Filippo Mereastirati, il presidente della Fondazione Oscar Piatella, Fernando Barbetti, così come il presidente degli sbandieratori, Matteo Menichetti. Si è invece conclusa ieri la trasferta della Sonosfera a Milano, al fuorisalone della Milano Design Week. Sono stati 8.500 i visitatori che hanno potuto fruire del programma del teatro acustico. Un successo confermato dal riconoscimento assegnato dal pubblico all'installazione, votata al quarto posto fra gli eventi più memorabili della Milano Design Week 2024 dei fuorisalone a World. La Sonosfera, creata da David Monacchi, tornerà ai musei civici di Pesaro dal mese di giugno. E invece sabato 4 maggio alle 17.30 nella sala del Capitano di Candelara inaugura la mostra fotografica al ritratto d'autore a cura di Armanizzi e Giancarlo Guccioni nell'abito del progetto Macula. La mostra è frutto di un percorso di esplorazione che fonde l'arte della fotografia con le profondità della psicologia. Una collettiva che vede come autori presenti Andrea Lanari, Chiara Broccoli, Elisa Cecchini, Manuela Costigliolo, Raffaella Ballerini, Sandro Del Tinto e Valentina Pieraccini. L'inaugurazione avverrà nell'ambito della festa di primavera organizzata dal proloco di Candelara. E come ogni lunedì sera concludiamo con lo sport. I verdetti del weekend appena trascorso dicono che la VL si giocherà tutto all'ultima giornata. La Vissi invece approda ai play-out che erano cosa nota ma lo farà in posizione di favore dopo aver superato la Recanatese nell'ultimo turno. Nel calcio 5 invece all'Ital Service spetteranno i play-off contro la capolista Olympus Roma. Di questo ed altro parliamo nel prossimo servizio. Nell'ultima apparizione stagionale alla Vitri Frigo Arena la VL centra la decima vittoria che le consente ancora di sperare nella salvezza che si deciderà domenica prossima nell'ultimo ballo di Venezia. Una vittoria faticosissima per Pesaro che batte Cremona già salva con un 91 a 86 trascinato dai 24 punti di tambone. Ora ad una gara dal termine la VL resta sul fondo a quota 20 con Brindisi che però è già a retrocesso. Davanti il terzultimo e quartultimo posto e condiviso a quota 22 fra Treviso e Varese. Per salvarsi la VL dovrà giocoforza vincere a Venezia ma non sarà artefice del proprio destino. Dovrà infatti sperare nella concatenazione di altri due risultati. La sconfitta di Treviso con Tortona e la concomitante vittoria di Varese a Pistoia. Perché in caso di arrivo di tre o quattro squadre a 22 punti, la VL sarebbe invece retrocessa nel calcolo della classifica Vulsa. Dal basket al calcio finisce invece il campionato della Viz Pesaro che era già certa di disputare i play-out. L'ultimo turno compie però la missione di giornata, ovvero battere la Juventus Next Generation e sorpassare la Recanatesa al quartultimo posto per giocare i play-out col vantaggio del campo e della miglior posizione in caso di parità di risultato nel doppio spareggio. Una combinazione che si crea grazie alla vittoria per 2-1 sui bianconeri e alla concomitante sconfitta della Recanatese con Lentella. Viz che soffre ma che vince con gol nel primo tempo, prima Zagnoni di testa su corner, poi il pareggio Juventino di Sekulov, infine il gol vittoria di Di Paola su punizione al tramonto del primo tempo. Ottava vittoria stagionale, campionato chiuso a 39 punti e play-out con andata il 12 maggio a Recanati e ritorno il 19 maggio al Benelli. Dalla Serie C alla Serie D finisce l'Annus Horribilis del Fano che dopo 57 anni retrocede in un campionato regionale. Fatale la sconfitta 2-0 ad Avezzano che condanna i Granata alla discesa in eccellenza. Nel calcio 5 era invece già certa dei play-off Little Service ma nell'ultima giornata della regular season la squadra pesarese scende all'ottavo posto, ovvero la posizione meno comoda per affrontare gli spareggi Scudetto, da opposta alla capoclassifica Olympus Roma. Un ottavo posto maturato dopo la sconfitta 4-1 al Palamegabox contro il Napoli dei tanti ex, a cominciare dall'allenatore degli scudetti pesaresi Fulvio Colini. Sul campo però Napoli ha una partenza devastante, 2-0 dopo 3 minuti, 4-0 a fine primo tempo, un passivo solo addolcito dal gol di Juan Fran nella ripresa. Finisce il campionato e saranno dunque play-off con Roma. Si parte con gara 1 in terra capitolina da fissare fra il 10 e 11 maggio. Nel rugby la Fiorini-Pesero all'ultimo ballo casalingo non riesce a salutare il pubblico amico col risultato sperato. A Muraglia vince Valpolicella 18-14 con un successo colto al fotofinish. E dire che Pesero aveva chiuso in vantaggio 14-8, sospinta dalle mete di Palette la Rechart e le annesse trasformazioni di Jubert. I Kiwi restano però a secco di punti nel secondo tempo e Valpolicella ne approfitta riemergendo per cogliere il successo. Domenica prossima, ultima di campionato in casa del Tarvisium. Si conclude qui lo spazio informativo di Rossini News in questo lunedì 29 aprile che continua con la nostra prima serata che come ogni lunedì vede l'appuntamento con CECAP Obiettivo Salute, programma condotto dal nostro Antonio Astuti in collaborazione con Fisora di Medical Center. Approfondimento oggi sui diverticoli lo faremo con l'ospite Maria Eugenia Minardi, medico chirurgo specialista in gastroenterologia, come detto appuntamento alle 21 e 20. E poi lunedì sera che continua l'insegna dello sport alle 10, la nostra esclusiva, quella delle partite in differita della Fiorini Pesero Rugby, le partite casalinghe. è stato l'ultimo match giocato al Tecnovo Rugby Park di Moraglia, quello della Fiorini Pesorrabi contro Valpolicella. Vedremo tutto questa sera alle 22. E si conclude qui l'informazione di Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi. Grazie. Grazie.